e ciao a tutti ragazzi io sono simone bentornati sul mio canale oggi siamo in un nuovo unboxing di ritorno al futuro come sapete io ho già questa macchina del tempo bella bellissima che a questo rimovibile a questo rimovibile vabbè paura di romperla però questo si rimuove e oggi andremo ad unboxare un'altra un'altra macchina del tempo va bene allora ragazzi eccoci qua ho tagliato tutto bene si va a vedere la macchina del tempo dove è qua ok ragazzi siamo eccola qua mamma mia mamma mia cosa non ho fatto per farla arrivare comunque è questo tantissimo perché non sa non sono più nella pelle ok ragazzi adesso lo siamo per unboxare mamma mia sono emozionato ecco adesso ci stanno le viti non me lo dire se ci sono le viti olè ragazzi ed eccola qui allora ho notato che nella scatola c'era questo il missile function che va qua e ora sarà un piccolo problema aprirlo perché guardate mamma mia che eccolo qui ragazzi questo è il mister function che va esattamente qua ecco così perché adesso c'è sto corso la forbice ecco 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 e andiamo ad aprire le portiere andiamo ecco 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 ec non ha ma c'ha il mister function le ruote sono rosse e invece qua sono normali quelle del MC12 wow ragazzi è veramente bellissima bella e ragazzi spero tanto che questo unboxing e questo video vi siano piaciuti mettete un like, iscrivetevi al mio canale e ciao ciao da me e questo è il 2 DeLorean unboxing e questo DeLorean ciao